Ad un anno dall'apertura dell'indagine riguardante l'inquinamento d'Acheu, i fanghi tossici residui della lavorazione delle concerie impiegati illecitamente nel riempimento di terreni in aree industriali e artigianali, il Comune di Massarosa ha approvato il piano di caratterizzazione per i terreni di Montramito oggetto del possibile inquinamento. Il piano è lo strumento fondamentale per poter procedere all'analisi di rischio e dare l'avvio alla definitiva messa in sicurezza dell'area. Prevede indagini estese uniformemente a tutta l'area interessata sia sui terreni che sulle acque e sarà attuato sotto la supervisione dei tecnici ARPAT per concludersi con l'analisi di rischio in base alla quale saranno valutati i provvedimenti successivi che porteranno alla restituzione dell'area ai cittadini e alle funzioni che vi sono previste. Quello di Massarosa è il primo Comune ad aver approvato questo piano per un terreno di sua competenza. In totale l'inchiesta, condotta dall'antimafia di Firenze, ha individuato 13 siti interessati dall'inquinamento d'Acheu sul territorio regionale.